Metti i testo avanti, ma proprio oggi c'è dove venire? Tantogli mi ricorda che cosa. Oh carlè, quelli del condominio di fronte stanno tutti ingazzati con te. Perchè? Che fai cercando? Come cazzo fai a chiamare te c'era io? Lo copri il caltaglio rosso e ci si mette almeno 10, scusa il geometro. Qui si ci blocca 11. Ma se guarda la parte di ieri, la chiede da fastidio. Fammi fare il buono signore con un mazzo a questo. Su un po', prima cominciamo, prima chiamo via. Mettetegli ecco, tanti nudo al posto, dai. Oh, lo segnoletto mi metti da sedere? No eh. Vangappete che bene sull'umidità da ricarace. Venite a quadri i vasi sull'terraneo. C'è chi da sua moglie, ma tranquillo. Faccenda fatta. Oh, mettiamoci io, sennò questi non cominciano. Cà, mettiamoci io qui che ci passano i dubbi termozifonia del caldo. Io. Eeeh... Oddio se passa, oh pelà. Va? Si è spucciato un calzitto. Ah 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 ah. Allora, per quanto riguarda Luca Potto di Luca Palazzo, non si vuole fare perché è zombata la ditta. Mentre lui pozzetto Luca Race, basta buttarci lo zuzzo. Il motore ha tu imbrezzo e ci lo svuota. La prima e l'ultima. Per quanto riguarda invece quello del quarto piano, sostituire immediatamente lui copre il caltaglio, incompatibile col decoro il pano. Eh, dai maresciami, madonna ma smontarlo, va. Piesso un colpo. Eh, Onelio. Invece quelli che lasciano il sacchetto all'umido che scolavano di lui Potto, quelli gli decimo niente. Non ti c'è incazzato. Non pareva bene. Ma te lo caccia. No. 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 No.